Sono Carla Quaglia e propongo il mio marchio Maglierie Kashmir Carla Quaglia. La mia produzione di maglieria, da lungo tempo nata a Savona e adesso espansa anche a Cuneo, tramite la collaborazione di mia figlia, prevede la realizzazione di capi di maglieria. In particolare una novità ultima è la copuntolana, un insieme di fili colorati che costituiscono una collana, una sciarpa, uno scaldacollo in un oggetto molto versatile che piace e incontra il gusto sia delle signore, delle ragazze e anche dell'uomo perché appunto in una versione più essenziale diventa anche il collo di un maglione. Però la mia produzione è anche molto di più, ossia le vere e proprie collezioni di maglieria che realizzo in Kashmir, lana merino, cotone, lino, seta, quindi sia nelle versioni invernali che estive. La produzione viene presentata spesso con sfilate e defilè e dà la possibilità alla clientela di acquistare il capo pronto secondo la mia proposta ma anche di farsi realizzare il capo su misura sia partendo dalla mia proposta personalizzata appunto secondo il piacere e il gusto della cliente stessa oppure realizzando ciò che la cliente ritiene, che desidera e che quindi decide e mi descrive. Naturalmente gli accessori, i cappelli, le sciarpe, i capi importanti, i cappotti, i pantaloni insomma tutto quello che nella maglieria è possibile realizzare.